Allora, mi presento, io sono Jessica Ancarello, sono una giornalista e sono qua oggi a fare da moderatrice questo incontro molto interessante sul tema del greenwashing, a questo titolo un po' evocativo, dietro un filo d'erba alla verità nascosta, parleremo di che cos'è il greenwashing e soprattutto di come si può intervenire, di quali casi sono esistiti, di quali sono gli organismi che ci proteggono sostanzialmente le istituzioni da questa pratica scorretta. Abbiamo qua un parterre di ospiti interessanti che sicuramente potranno darci degli spunti su cui riflettere, partiamo qui dalla mia sinistra Giovanni Calabro, direttore generale dell'Antitrust, Vincenzo Guggino, segretario generale dell'Istituto Autodisciplina Pubblicitaria, Marco Benadì, pubblicitario e CEO di Dolce Advertising e Marco Pierani, direttore Public Affairs e Media Relations di Altro Consumo. Spesso noi consumatori abbiamo bisogno di quello assoluto lì, cioè io non sono in grado, anzi sono in grado ma sono pigro talvolta e quindi non sempre mi è subito chiaro quale sia il limite, quale sia la certificazione, quale sia, quindi gli assoluti funzionano bene perché diciamo hanno un'immediata adesione nel pubblico. E quindi volevo chiedere appunto a Marco Benadì che tratta con la pubblicità tutti i giorni nel senso che la pensa, come si costruisce in un modo onesto o come si dovrebbe costruire in un modo onesto il rapporto tra la marca, la comunicazione e il pubblico, quindi come si crea questa cosa perché se poi io ho bisogno degli assoluti ma gli assoluti non rispettano le norme che ci ha dato appunto l'Istituto di Autodisciplina e il garante poi ci sanziona insomma qualcosa non funziona. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito ad essere qui oggi. Devo muovermi in questo spazio ristrettissimo di norme, di regole e rappresentare un po' il mondo delle idee. Allora innanzitutto una buona notizia, abbiamo recuperato rispetto ai grandi paesi europei soprattutto del nord Europa un ritardo in termini di interesse da parte degli italiani nei confronti della comunicazione e della pubblicità su questo tema. Noi scontavamo un po' un ritardo da un punto di vista sia di consumo di prodotti che di sensibilità alla comunicazione, circa quattro quinti degli italiani dimostrano di essere abbastanza e molto interessati a comunicazione pubblicitaria di prodotti green. Quindi il terreno è fertile, lo dimostrano i lanci di prodotto, più 50% di auto ibride immatricolate nell'ultimo anno, 50% dei lanci nel mondo cosmetico l'anno scorso avevano prodotti con posizionamento green. Quindi c'è un incrocio tra domanda e offerta che offre delle opportunità alle marche, alle imprese e ai consumatori. Qual è il punto e la vera sfida? Da una parte c'è il greenwashing che io amo definire un po' una sorta di sindrome da cortomiranza dove spesso le aziende più sbrigative adottano politiche semplicemente reattive, cioè di risposta a un problema, politiche minimaliste, cioè azioni fondamentalmente per uscire da un vicolo cieco o addirittura, in alcuni casi in malafede, ma qui grazie al cielo ci sono loro, comunicano in modo ingannevole. Qual è la vera sfida? Non basta nella presentazione di un prodotto con valenze a impatto ambientale offrire qualità e prezzo e offrire una comunicazione che dal punto di vista emotivo lavori sulle suggestioni. C'è assolutamente bisogno di comunicare al consumatore il beneficio reale che si porta a casa nell'acquisto del prodotto in termini di miglioramento sull'impatto ambientale. Io ricordo due esempi che vorrei citare, non sono italiani per cui usciamo un po' dal contesto. Il primo è di un'azienda leader nel mondo, retail, che ha realizzato l'anno scorso un film corporate, partendo da quello che noi chiamiamo l'insight, cioè quello che accade fondamentalmente nella nostra vita quotidiana, quello che avvertiamo attraverso l'ostranno. Un sacco di parole in inglese, esplicitiamolo. Sì, nel senso che è effettivamente quella che è la sensazione del consumatore, quello che avverte il consumatore nei confronti dell'acquisto di un prodotto o dell'uso di un prodotto, ha rappresentato cosa succede nella nostra vita quotidiana tutti i giorni e nella nostra vita quotidiana e nelle nostre case tutti i giorni si consuma molta energia, si consuma molta acqua, si consuma molto gas. Fino a che punto il pianeta riuscirà a sopportare tutto questo? E la risposta è che dipende da noi. Le marche possono fare molto, l'ingegneria può fare molto, la tecnologia può introdurre grandi innovazioni, ma fondamentalmente il futuro sta nelle nostre mani, sta un po' nella nostra capacità di cambiare anche comportamento. Una grande casa automobilistica giapponese fece una campagna abbastanza sensazionale a Tokyo, una campagna a fissioni, dicendo non prendete l'auto per andare a lavorare. E' una campagna evidentemente coraggiosa, ci vuole molta autostima, molta self-confidence per comunicare questo. Un altro esempio che cito è, siamo in Peru, Lima, 10 milioni di abitanti, una delle città più inquinate al mondo, con un enorme problema di risorse idriche. L'UTEC, che è l'università di ingegneria, realizza il primo e unico billboard, cioè affissione dinamica, che trasforma l'umidità in acqua potabile. 9.450 litri prodotti in tre mesi, pari al consumo di 100 famiglie. Quindi per rispondere un po' alla tua domanda, io credo che non si debba comunicare ciò in cui si crede, ma comunicare ciò che si fa realmente. Allora lì le marche possono giocare una partita vincente, possono evidentemente rispettare in modo corretto quelli che sono i principi a tutela del consumatore e possono creare valore aggiunto per se stesse. Sì, mi pare che vengano fuori due cose in questo momento. Da un lato la responsabilità individuale e in questo caso del consumatore, stavi menzionando tu adesso, quindi l'idea di essere a consapevoli di quello che vuoi e di quello che stai comprando, dall'altro però anche non farti suggestionare da delle promesse assolute che non possono essere credibili e che comunque non sono ritenute veritiere secondo gli standard che ci siamo dati, insomma dagli watchdog, da coloro che devono stare a vigilare sull'accuratezza delle informazioni. Questo dilemma etico, come lo risolvi? Cioè quando arriva il consumatore, proprio mi interessa a livello quasi personale, cioè arriva da te e ti dice io voglio puntare su questo, ma tu pensi che non sia proprio vero, allora come funziona? Ma guarda, credo che la miglior prova sia quella di verificare che l'investimento in comunicazione su una promessa non così seria superi gli investimenti in ricerca e sviluppo di prodotto. Se la comunicazione pesa di più dell'impegno reale dell'azienda nell'apportare reali benefici, oserei dire che non bisognerebbe ricevere un incarico, non bisognerebbe comunicare. Io quello che ritengo è che la chiarezza, la trasparenza e la veridicità sono condizioni necessarie. Chiunque faccia il nostro lavoro e le imprese che lo fanno seriamente devono partire da questo presupposto. Il twist, o meglio lo scatto in avanti è dato dalle idee. Noi che crediamo nella forza delle idee, nella potenza creatrice delle idee sappiamo che raccontare la verità ben detta al consumatore può portare valore alle marche, al mercato, alle persone, alla nostra società. Però, ripeto, riprendo il concetto iniziale, se un'azienda pensa di dedicare agli investimenti in marketing e comunicazione delle risorse superiori a quelle che va a dedicare allo sviluppo del nuovo prodotto, secondo noi siamo nell'area del greenwashing. Benissimo. Grazie a tutti. Purtroppo il nostro tempo è finito e ci sarebbe da parlarne ancora, però ci siamo portati a casa qualche insegnamento, diciamo. Grazie ancora.